Noi non firmeremo mai una mobilità forzata né oggi e né in seguito. Puntano dritti verso l'obiettivo di salvare quanti più posti di lavoro possibile nei tre stabilimenti dell'area Vestina. Per questo le sigle sindacali e le RSU degli stabilimenti Roman Style di Penne, Montebello di Bertone e Civitella hanno organizzato per la giornata di oggi un presidio di protesta che ha visto dalle prime ore della giornata anche una rappresentanza nutrita di lavoratori. Alcuni giorni fa i vertici aziendali avevano comunicato l'avvio della procedura di chiusura delle produzioni di maglieria e camiceria scatenando la protesta di sindacati e lavoratori i quali accusano la stessa di non aver rispettato l'accordo sottoscritto il 13 aprile presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa è un'avvertenza difficilissima. Oggi l'azienda non sta rispettando l'accordo fatto ad aprile e di fatto in questo modo è andata a mettere nel 321 esuberi queste persone di questi due reparti saranno delle uscite forzate quindi non condivise con i sindacati. Intanto nella giornata di domani è previsto un nuovo incontro tra sindacati RSU Azienda e Regione Abruzzo con l'assessore Pietro Quaresimale pronto a chiedere ai ministeri di chiarire una volta per tutte i termini della situazione. Ci sono delle dichiarazioni ufficiali, questa volta noi vogliamo che l'azienda realmente ci dica qual è il suo obiettivo e qual è la sua strategia e qual è il suo piano industriale ma con i fatti, non più con dichiarazioni che dopo vengono smentite. Questa situazione ci ha messo in grave difficoltà, ha messo in difficoltà un intero territorio perché non stiamo parlando solo delle 70 persone del reparto maglieria ma stiamo parlando che questa situazione si può ripetere anche per altri reparti. La salary review riguarda una parte dei lavoratori a cui per esempio ad aprile si sono dati premi per obiettivi, per target non so quali target abbiano potuto raggiungere e aumenti della RAL, cioè della retribuzione annua lorda. Poi c'è la grossa fetta dei lavoratori, circa 900, dove invece si fa la spending review cioè si taglia il salario, il numero delle ore, si toglie i premi. E questo non è che stiamo parlando di briciole ma se stiamo parlando del taglio dell'orario di lavoro del 2016 più l'eliminazione del premio del 2020 sono circa 5.000 euro in meno su una base di circa 20.000 euro quindi stiamo parlando di persone su cui si taglia il salario, mentre su altri si aumenta. Questa è una cosa inaccettabile e le persone dovrebbero essere arrabbiate con questa azienda perché questa gestione sinceramente non è condivisibile.